L'importante è mantenere una certa costanza nelle cose. Per esempio, tutti i giorni c'è un nuovo video di testi senza senso. Vediamo come farla. Capitare, indicare, alligatore. Grigio, antrecite, fiscalista, lacerante. Concludere, superare, allagata. Libertino, rimanente, bere. Demente, zazzeruto, ottuagenario. Arancia, negativo, broccoli. Melone, charcoz, charcoz, non ho mai avuto la ramoscia. Allora, c'è qualcosa che non mi convince affatto. Diabolica, scavatrice, crescere. Diabolica, scavatrice, cioè tipo Christine la macchina infernale. Crescere, no, colpire. Diabolica, scavatrice, colpire. Cacchio. Vediamo un po', ogni tanto dopo Valeriana, la grancevo l'appoggiare prima, uggioso rosso sopra dentro, fantastico. Farò una tardi, diabolica, scavatrice, colpire. Pieno a trovare una base tipo horror. Non è proprio inquietante, no. Questo è tutto fuorché inquietante. Ma cacchio la cassa in quattro. Oh, questa. Presupposti ottimi. Potrebbe, potrebbe avvenire una porcata, però. Ah, tipo così. Magari non la uso poi, vabbè. Let's go. Ogni tanto dopo Valeriana, La grancevo l'appoggiare prima, Uggioso rosso sopra dentro, fantastico. Diabolica, scava trajeto, oceans, brusso sopra dentro, ma è un'appoggiare prima di condivisione di condivisione di condivisione. eccesso e colpire vieni spesso incarnato prugna davanti fuori a me e te dietro notare alpino raramente l'euro psichiatra avere oggi ogni tanto ogni tanto corica escavatrice e colpire robin stato cocomeri e cocomeri e con setto un stenco stridula banano rosso contenere mantenere da amare un segretario di dimenticare quando dopo molto limitare limitare che ti non ci è bare ci 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 Grazie a tutti